Che Giorgia Meloni abbia fatto la sua prima uscita internazionale con un intervento alla due giorni del partito di destra estrema spagnolo Vox, dove non meno di tre mesi fa, nella seconda metà di giugno l'abbiamo sentita urlare e infiammare le folle, è stata molto pacata in questo intervento a Vox, però insomma anche un paio di cose sull'idea di Europa, sul fatto che dobbiamo prendere come esempio la Polonia, non lo so, lei pensa che tutto questo sia rassicurante per gli alleati europei e internazionali? Io ho visto il discorso che lei ha fatto a Vox e mi sembra più un discorso di decompressione come un sommozzatore che esce e va verso la superficie del mare e quindi deve decomprimersi. Lei ha parlato a Vox, ma ha fatto un discorso che francamente non infiammava le... No, beh ci mancava altro, mi viene da dire, non era veramente il caso. E quindi io credo che se... io non è che faccio l'esegetta di quello che fa Meloni, però leggo e cerco di capire anche perché quello che fa un manager normalmente è quello di capire la psicologia della gente e di giudicarla perché dalla capacità della gente di gestire qualcosa dipende la sopravvivenza di un'azienda. Ecco, quello che io ho capito della Meloni è che lei ha un progetto di trasformazione della destra italiana che è stata una destra tra l'azione berlusconiana per vent'anni oramai o più, venticinque anni, quasi trent'anni e trasformarla in una destra, destra-centro, centrodestra, chiamavano come si vuole, moderna, non ancorata oramai a retaggi che non ci sono più, ma una destra che possa presentarsi per un'alleanza con i cristiano democratici, con i popolari a livello europeo. E quindi io giudico da quello che le ho sentito dire sulle cose concrete. Le cose concrete non sono cose irragionevole, anche perché quello che io ho sentito dalla Meloni riflettono chiaramente il fatto che la Meloni le aveva studiate, contrariamente a tante altre cose che io ho sentito dire da altri leader del centrodestra che evidentemente parlano per slogan, parlano per sentito dire, parlano per riferimenti... Mi piace che mi scusi, devo fare a favore di Giorgia Meloni, perché tutti sottolineano questa cosa che studia, ha studiato, ma non è che perché per la prima volta adesso abbiamo una donna Presidente del Consiglio, debba arrivare una specie di... No, ma probabilmente perché eravamo abituati mai... No, voglio dire, Giorgia Meloni è sempre stata così, è sempre stata così, quindi... Per quanto riguarda l'Europa, per quanto riguarda l'Europa, guardi, i leader politici, per come li conosco io, hanno una profonda ammirazione per quelli che riescono a conquistare una quantità importante di voti. E quindi la prima cosa che quando si riuniscono fra leader che sono stati votati, non leader che hanno un incarico, diciamo, di tipo tecnico, è il riconoscimento del successo elettorale che hanno avuto. Quindi si riconoscono fra pari. Poi è chiaro che la Meloni ha degli orientamenti politici diversi, ma così come hanno fatto tanti... E su questo hanno dei problemi Salvini e Berlusconi a riconoscere a Giorgia Meloni il ruolo. Certo hanno dei problemi, certo. Ma a Giorgia Meloni, con la sua storia personale, col fatto di essere donna, col fatto di aver avuto il successo che ha avuto, devo dire tanto di cappello dal punto di vista personale. Allora.